È il primo Covid Hotel delle Marche e non poteva che nascere in una delle città marchigiane più votate all'accoglienza turistica, Senigallia. Servirà ad accogliere una cinquantina di pazienti Covid non autosufficienti per l'isolamento domiciliare, dimessi dalle strutture ospedaliere, clinicamente guariti, ma ancora positivi e quindi convalescenti. Il Covid Hotel servirà ad alleggerire e liberare così posti letto vitali per le strutture ospedaliere dell'area vasta e che quindi potranno così meglio gestire sia personale che strutture. Il sindaco Maurizio Mangialardi con grande orgoglio ha stilato nei giorni scorsi il protocollo tra le parti con le associazioni che assisteranno i pazienti e la proprietà della struttura. Un esempio lampante di come la sinergia tra pubblico e privato produca benefici per la comunità ben più incisivi rispetto alle singole azioni. Beh sì, un bel messaggio per l'intera regione. Il primo e per il momento unico hotel che ospiterà le persone che devono fare da una parte la quarantena e dall'altra la convalescenza. Il tema principale era proprio rivolto a questi perché ci sono soggetti che sono clinicamente ormai guariti ma non lo sono biologicamente e quindi devono attendere il doppio tampone negativo e per tante ragioni non riescono sempre a farne nel proprio domicilio. E allora grazie alla Caritas diocesana di Senigallia, grazie anche a un gruppo di imprenditori e di cittadini che con un'associazione stanno pagando l'intervento e grazie anche dico all'Asur perché ha formalizzato il percorso per consentire di dimettere queste persone e dentro una struttura dove i servizi sono garantiti da tanti volontari e da un percorso che ci permette intanto di scaricare i nostri ospedali. Dico nostri perché saranno interessati soprattutto quelli dell'area vasta 1 e dell'area vasta 2 perché Pesaro o Fano o Urbino che si trovano ancora in difficoltà per un numero di convalescenti che sono lì dentro possono dentro questo meccanismo consentire di trovare un alleggerimento. Io penso che sia un grande segno per guardare la fase 2 perché significa, lo dico pensando ai nostri ospedali, le nostre coviderie possono essere ridotte e quindi gli ospedali liberati da quel segno e quindi recuperiamo spazi per le specialistiche che adesso dobbiamo pensare anche tanti malati che in questo periodo non hanno potuto fruire delle assistenze mediche ospedaliere o ridotte perché gli ospedali tutti erano impegnati su questo fronte e quindi si ritorna al primo vero segno della normalità passa proprio attraverso gli ospedali.